Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Dopodiché sappiamo che c'era stata una bozza di risoluzione, voi sapete che alla conclusione di queste informative c'è sempre un voto su un documento, la maggioranza ha votato un suo documento, quindi tutti d'accordo i quattro partiti che compongono la maggioranza, però sappiamo che la Lega aveva presentato un documento in alcune parti molto diverse, soprattutto nelle parti che riguardano l'Ucraina e con toni e con parole che ricalcano pari pari il messaggio che ha voluto dare ieri in questo intervento il capogruppo. Poi hanno trovato un accordo, nel senso che questo intervento di ieri è stato molto forte, molto diverso rispetto ai toni che dovevano essere previsti. La Presidente del Consiglio, insomma noi eravamo su in tribuna a guardare, era abbastanza colpita da quello che stava sentendo, non c'erano Ministri della Lega seduti in quel momento al Banco del Governo, è arrivato un sottosegretario ostellare. Una sorta di presa di distanza, dici? D'altra parte io penso che in effetti la Premier andrà a Bruxelles in questi giorni, cioè domani, e già probabilmente ieri ne ha parlato con la Presidente della Commissione, dicendo guardate datemi una mano sull'immigrazione perché per me diventa sempre più difficile tenere l'opinione pubblica e la mia maggioranza. Non è più soltanto Forza Italia con Berlusconi che quando ha detto queste cose... Ricordiamo durante il voto, mentre si votava, mise quasi in imbarazzo la Premier, che sarebbe andata a Kiev, mi pare, che andava a Kiev. È sempre stato un po' trattato come dire, vabbè, è un anziano leader che dice quello che pensa. Adesso parliamo della Lega, parliamo del capogruppo della Lega, quindi uomo fedelissimo di Salvini, Salvini ieri non era in aula, quindi c'è un problema che è anche legittimo che ci sia, nel senso c'è un'opinione pubblica che è difficile da tenere su questa posizione. Sì, quella è la grande scommessa di tutti i paesi che formano il blocco cosiddetto occidentale. Però su questo tema c'è una differenza. Voglio chiedere a Borsetti se c'è questo cuneo, diciamo.